Musica Dalla prima all'ultima macchina E qui da due ore praticamente facciamo un applauso al sindaco Qui presente, ad salutare tutti con la bandiera e la fascia tricolore Non accade mai, quindi è bello sottolinearlo, grazie, grazie mille C'è sempre la prima volta, ma è bello che accada E non è un caso che accada da queste parti Il quartier delle isole Borromee, Sirvo e Mirani Adesso me la spieghi questo Ma è una cosa che hanno fatto dei miei amici l'anno scorso Cioè? Ma cazzate Non si possono dire, vabbè Entriamo troppo nella schiera privata Intanto siete qui, siete pronti Ad affrontare questa sfida Chiamata al cinquantottesimo Rally delle Valle Ossolane La vettura è il numero 146 E sono le 17, 30 e 55 Sono praticamente due ore Che andiamo a presentare i equipaggi Ancora non è finita Questo ve la dice lunga Su la quantità Ma abbiamo visto anche la qualità Degli equipaggi che hanno scelto di prendere pari mi piace molto Di risultato di fareUNO Mi piace molto E per fareUnione Questo ve lo fa A presto Fai un pezzettino, che mi fai paura. Fai un pezzettino, che mi fai paura. Fai un pezzettino. 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 Fai un pezzettino.